Tu vedi che razzo di rapporto, guarda, a certi colleghi devi stare a spiegare tutto. Io guarda, sono sempre stato dell'avviso, credimi, esistono due categorie di carabinieri, secondo me. Cioè? Ci sono i carabinieri, voglio dire, quelli come... Vabbè, intelligenti, dai. Non lo volevo dire, ma... Fa nessuno, quelli intelligenti. E poi, diciamo la verità, ci sono anche quelli proprio... Dove vai? Mi hanno bussato. E vado io. Chi è?